Il Policlinico Universitario di Messina ha inaugurato i nuovi locali di neurologia realizzati con gusto e fantasia. Primeggia il colore vivace del reparto, mentre la punta di diamante è rappresentata dalla Stroke Unit, un'unità specializzata per il trattamento dei pazienti colpiti da ictus, in particolare nella fase acuta, cioè nelle prime 48 ore. Dotata di otto posti letto ed identificata con decreto assessoriale come centro UB tra le cinque Stroke Unit di terzo livello, è stata anch'essa realizzata per assicurare il massimo grado di tecnologia, ma soprattutto di sicurezza. Grande soddisfazione è stata espressa dal commissario straordinario dell'azienda, il dottor Giuseppe Pecoraro. Restituiamo degli ambienti che rispondono a un'esigenza di ospitalità dignitosa nei confronti dei pazienti. È chiaro che questo non è sufficiente perché la presenza di operatori e di professionisti, particolarmente bravi e qualificati, fanno della neurologia una realtà molto importante non solo sul territorio messinese ma anche sull'intera regione siciliana. Quindi era giusto ed era necessario rendere il contesto all'interno del quale si opera il migliore possibile per i nostri pazienti ma anche per gli operatori che svolgono la loro attività. I costi di ristrutturazione e di realizzazione della nuova unità specializzata montano a 880.000 euro, di cui 600.000 con finanziamento dell'assessorato regionale e i restanti 280.000 a carico dell'azienda. Nei prossimi giorni altri reparti già ristrutturati o completati verranno inaugurati.